Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi video unboxing dei vestiti presi da prenatal con un mucchio di sconti, quindi adesso è il momento di fare acquisti Allora, ho preso questi pantaloncini qui, questi qui sono dei regali, eh quindi mi fatti 24-36 mesi, non so, per mia figlia e il prezzo non è questo qui che ha scritto qua ma è molto molto meno Ok, adesso vi faccio vedere invece, penso che sia tutta roba per mia figlia adesso Vittoria, è in pratica, adesso vi faccio vedere quello che ho preso Tra l'altro è tutto super imbustato Ok Questa è una maglietta che secondo me è bellissima, un cotone In Italia 9-12 perché aveva poca roba a livello 9-12 Quindi ho preso qualcosina, non tanta roba però Adesso qua c'ho dell'altra roba A farvi vedere Vediamo se riesco a staccarlo così oppure Facciamo così, stacco il video, stacco questo e poi io lo ricordo Ci siamo Anche questa qui è molto molto carina 6-9 Sì, primaverile ci sta E i prezzi non sono questi qui, eh Lo ricordo sempre Sono molto molto inferiori Mi cerco di arrivare dell'altra roba perché aveva ordinato delle altre cose Sì, primaverile ci sta